Non sono qui per divertire come si fa su TikTok oppure per piacere a qualcuno in particolare, ma sono qui per raccontare, raccontare i maestri e Margherita, ovvero quando la critica è copiatissima. I maestri del TV e del cinema sono due, sono due eccellenti, due eccellenti maestri che sono seguitissimi e poi c'è anche, ci mettiamo anche questa Margherita, la Margherita in fiore umile che è stato esaltato solo da Riccardo Cocciante e poi è stato anche usato per il logo di un certo guru il quale comunque non è riuscito a gestirne i profitti che questa Margherita gli aveva elargito, per cui insomma è stato un fallimento. La Margherita insomma è un fiore umile che è poco considerato proprio per la sua semplicità, è un fiore di campo che viene usato solo per fare decotti, tisane, insomma la camomilla in pratica, per cui insomma è un fiore considerato poco. Quindi in realtà le critiche, quando la Margherita fa la sua critica, le sue critiche che sono umili, semplici, anche molto diciamo originali perché scaturiscono dal suo pensiero, dal suo modo di vedere la vita, insomma scaturiscono da se stessa e quindi sono molto particolari e originali e sono copiatissime da certi critici, non dai maestri diciamolo, ma da certi critici che poi si fanno profumatamente pagare in giornali patinati, fanno appunto queste critiche, le copiano di sana pianta da questa Margherita umile e poco considerata, ma insomma loro li copiano e si fanno belli con le pene, praticamente con le pene del pavone e sono anche pagatissime, come a dire che più che ispirarsi all'opera in sé o all'opera, alla trasmissione o al film in sé, si ispirano alla critica di questa Margherita e la scopiazzano proprio beatamente, senza sfacciatamente e quindi sono personaggi un po' così da mandare, come si suol dire, a fan ecco, andate a fan, questo è quanto e quindi